Dopo aver osservato il proprio turno di riposo, la Ranieri International Volley Soverato si appresta ad affrontare la terza giornata a due femminile girone B, tornando a giocare al Palascoppa per ospitare Pinerolo, squadra che tra l'altro ha vinto le prime due partite di campionato. Presentiamo questa sfida importante con il vice coach Diego Boschini, Soverato che ha fruito subito del turno di sosta dopo la vittoria all'esordio con Volley Albese e ora c'è una grossa occasione subito per ripartire. Sì, ripartiamo con Pinerolo, una partita non facile sicuramente, lo sappiamo Pinerolo ormai da tanti anni che è minita nel campionato di A2 e soprattutto ha dei roster ogni anno sempre più importanti. Quest'anno hanno pure cambiato palleggiatrici, prendendo una giocatrice più esperta come Prandi. Diciamo che il loro sistema in gioco è cambiato un pochettino, però noi abbiamo avuto questa settimana per poter lavorare, studiarli e cerchiamo di essere pronti per la partita di domenica. Rispetto alla partita di esordio con Albese ci saranno delle variazioni, purtroppo perché il Soverato non potrà contare sulle prestazioni di Sunderlikova rispetto alla prima partita, ma proprio nella prima partita abbiamo visto che lo staff tecnico ha potuto attingere a tutto il roster chiamando in causa tutte le giocatrici. Questa è sicuramente una caratteristica della squadra quest'anno? Sì, come dici tu, è una caratteristica sicuramente della squadra. Purtroppo Karin, una straniera opposta nostra, ha avuto un problema in settimana e quindi non sarà della partita domenica contro Pinerolo. Però, ripeto, la forza di questo gruppo è l'interscambiabilità tra le varie giocatrici. Ci sono giocatrici molto adulti che possono essere intercambiate tranquillamente anche durante la partita. Di fatti contro Albese lo abbiamo dimostrato concludendo tutti i tre set con tutti i sei cambi fatti in campo. Quindi non abbiamo nessun timore a cambiare anche durante la partita se ovviamente ci sarà la necessità o la richiesta della partita stessa. È presto ancora per trarre bilanci o fare previsioni. Possiamo dire però che alla luce delle prime due giornate di campionato che giudizio dà il coach Boschini sulle squadre che compongono il girone dove figura anche il Ranieri International Soverati? Il campionato è ancora lungo. Per fare delle previsioni è difficile. Nel senso che siamo tutti appena rientrati comunque dopo una posa estiva abbastanza lunga. Sì, ci sono state sicuramente questioni di preparazione che hanno aiutato a mettersi un po' in carreggiata. Però ci sono ancora tante cose da scoprire da qua fino a marzo, aprile, maggio. Insomma, quando inizierà a diventare un po' più calda la stagione. Fare le previsioni adesso è un po' complicato. Sicuramente noi partiamo dalle basi solide che sono le nostre riconferme, quali Federica, Ferrario, Chiara Riparbelli. Insomma, il ritorno di Giorgia che conosciamo comunque molto bene e con cui abbiamo già lavorato. Questo sicuramente sarà anche questa una marcia in più per l'inizio del campionato. Però poi sul proseguo bisogna lavorare, progredire e diventare sempre più forti.